Fin dall'antichità, esistono al mondo creature dette mostri. Vivono segretamente tra gli esseri umani, senza che nessuno lo sappia. Incidente da mostri. Tornando a te, ragazzo, sei nato dall'unione tra un umano e un oni senza sangue detto ghoul. Sei un ibrido. Sono una sorta di investigatore specializzato nell'occulto. Sono qui per alcune indagini. E lei è un investigatore che si occupa di mostri, giusto, signor Inugami? Benvenuto nell'agenzia investigativa Inugami. Ah, davvero? Io ne ho 14. Io mi chiamo Akira. Molto piacere. E adesso respirate pure l'essenza della mia francia. La nobile Inari ti sta aspettando. Che sai fare se ti ci metti? Ti stanno pedinando, sai, è così. Se tu mi lanci bene, posso farcela, Shiki. Sono uno che mantiene il sangue freddo e analizza la situazione. Akira, sono un ragazzo! Non insultare la nobile Inari! Puoi trovare i tuoi genitori. Lavorando per lei, io, prima o poi, potrò incontrare i miei genitori. Ok, vi sal sadetti! Grazie.